eccomi ragazzi questo video è stato molto male per colpo di Brian che non sa riprendere sei volte riporto il fatto il video parleremo di un evento che per sbaglio è stato catatropico per noi manca il direttore del canale e oggi andremo a fare la nostra giornaliera monkey routine senza il protagonista direttore del canale questa cosa fa realmente piangere i cuori, animi e sorprendenti delle persone che hanno visto ogni episodio e dobbiamo vedere i prossimi due che devono uscire questo è uno dei due non dico quale e oggi ragazzi andremo in un posto sacro in chiesa a scoprire i i cimeli della chiesa si stiamo in metà percorso con che schifo di video cosa vuoi dire signora oggi lui è mancato non ha morto è mancato perché non sta bene in poche parole la ti prendi bene guarda così no 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 così no così no così è fruttuto così è venuto a mancare in questi giorni sai zitto cani di verde ti sgosto la famiglia il direttore di questo canale è venuto a mancare in questi giorni perché ammalessi no così in poche parole è ammalato è ammalato perché la influenza è già scorreva nel suo corpo da mesi già scorreva nel suo corpo da mesi e si è rivoluzionata anticipata oggi una scimmia che deve fare il suo verso se non lo farà verrà punito come c'è il verso? scimmia che hai detto verso signora? me lo so non lo sai sentito? no lo sai sentì passiamo di qua no mi cagato vai davanti Oggi si è aspettato questo figlio Devi fare qualcosa che una scena farebbe te ogni giorno Ah sai, rifallo Ti devo fare una foto Cioè, scena, è vero Rifallo Ok, abbiamo la copertina del video Ma dove dobbiamo tagliare? Lo taglia, Nico, Nico Oggi Oggi parleremo di un discorso molto importante Del carry-on Che succedendosi Succedendosi Eccolo ragazzi Lo sento Che ora è la prima gara di tutto? Sono le sette e mezza Sitto Io qui ce l'ho già stato Nel presidente episodio Basta che ci metto il copyright Ok, ragazzi Il petto si sente? Vai C'era una Che faccia? Hai un'altra copertina Un'altra copertina La tua faccia così Poi c'era un altro fatto che ha incriminato il nostro sapere Che C'è anche adesso potrei fare due nuove idee Ma non credo Non c'è, mannaggia Cosa c'era quel punto lì? C'era una macchina che aveva le cose a fecce Poi c'era il palo del concetto automatico Che andava Il mondo è rovinato Oggi andremo Andremo al cimitero Andremo al cimitero ragazzi Andiamo Let's go Ma come faccio ad andare al cimitero? Corriamo Guardiamo No, non ci riusciamo Metti davanti la videocamera Metti davanti la videocamera Stiamo giusti Potremmo sentire anche la persona E' il libratore Il cazzo è quel riso messo lì? Non so Lo sai come vedrà il suo video la mamma? Cri, guardami Ma lo so di formaggio Sai quello che hai fatto prima? Il pullman Christopher Che coglione Che stai cercando di fare? Vedete quanto hai mangiato? Pochissimo Che schifo Che scarpe sono queste? La puma Non è una smultorizzazione Pagateci bastardi Non ce ne ho pagato Lui ci paga La nostra sicurezza Lui è quello che soffre di più Non sa il nord VPN No, la svetta E siamo qui Con Christopher Per farti vedere Stava mangiando prima Beh niente Non ci paga Il pubblicatore Lo soffre di più E' il pubblicatore E' il pubblicatore E' il pubblicatore E' il pubblicatore